Ho riflettuto molto in questi giorni cercando di dare un senso, perché un fottuto senso ci dovrà pur essere a tutta questa assurda situazione che siamo costretti a vivere. Ho immaginato che il virus potesse parlare e ho immaginato ciò che ci direbbe attraverso una lettera se potesse farlo. Ciao, sono Covid-19. Molti di voi mi conosceranno più semplicemente come coronavirus. Scusate il poco preavviso, ma non mi ha dato far sapere quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò a voi. Perché sono qui? Diciamo che sono qui perché ero stanco di vedervi regredire anziché evolvervi. Ero stanco di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il pianeta. Ero stanco di come vi rapportate l'un l'altro. Ero stanco dei vostri sopprusi, delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali, dei vostri pregiudizi. Ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra avidità, della vostra ipocrisia. Del vostro egoismo. Ero stanco del poco tempo che dedicate a voi stessi, alle vostre famiglie. Ero stanco della poca attenzione che riservate molto spesso ai vostri figli. Ero stanco dell'importanza che spesso date alle cose superflue, a discapito di quelle essenziali. Ero stanco della vostra ossessiva e affannata ricerca continua. Del vestito più bello, dell'ultimo modello di smartphone, della macchina più bella solo per apparire realizzati. Ero stanco dei vostri tradimenti. Ero stanco della vostra disinformazione. Ero stanco del poco tempo che dedicate a comunicare tra di voi. Ero stanchissimo delle vostre continue lamentele quando non fate nulla per migliorare le vostre vite. Lo so. Sarò duro con voi, forse troppo. Ma non guardo in faccia a nessuno. Sono un virus. Il messaggio che voglio dare è semplice. Ho voluto evidenziare tutti i limiti della società in cui vivete. Perché possiate eliminarli. Ho voluto fermare tutto apposta perché capiate che l'unica cosa importante a cui dovrete indirizzare tutte le vostre energie ed ora in avanti. È semplicemente una. La vita. La vita. La vostra e quella dei vostri figli. E a ciò che è veramente necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case, lontano dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri figli o nipoti. Perché capiate quanto sia importante un abbraccio. Il contatto umano. Il dialogo. Una stretta di mano. Una serata tra amici. Una passeggiata in centro. Una cena in qualche locale o una corsa al parco all'aria aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto. Siete tutti uguali. Siete tutti uguali. Non fate distinzioni tra voi. Io sono di passaggio. Ma i sentimenti di vicinanza e collaborazioni che ho creato tra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in eterno. Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile. Camminate piano. Respirate profondamente. Fate del bene. Godetevi la natura. Fate ciò che vi piace e vi appaga. E createvi le condizioni per non dover dipendere da nulla. Quando voi festeggerete, io me ne sarò appena andato. Ma ricordatevi di non cercare di essere persone migliori solo in mia presenza. Addio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.